Non so se posso dirlo ma doppierò un personaggio di Space Jam Oh che goduria ragazzi, che goduria Non ho mai doppiato e sono sicuro che farò cagare ma molto bello Ah no, allora, 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 allora Sono le cazzo di 10 di mattina Significa che mi mancano esattamente Quanto che mancano a mezzogiorno? Mancano esattamente due ore Ho lavoro tra due ore E io non è che durante il lavoro posso mettermi a pensare Io due settimane fa, adesso che sto registrando questo video Sul canale ho anche fatto una recensione, un'analisi Una first reaction positiva a No Game Freestyle di Fedez da Supreme Dove io facevo anche i complimenti a Fedez di essere tornato Quello di prima, con la stessa scrittura di prima E soprattutto di aver fatto capire che nonostante l'industria musicale sia cambiata Col corso del tempo, lui comunque ha ritrovato quel pubblico Nel passare del tempo aveva perso Io non pensavo che a distanza di due settimane, così a, ma proprio a casissimo Nella maniera più randomica possibile Si sarebbe messo a Si sarebbe messo a pubblicare le stories Inerente Alla sua entrata nel doppiaggio italiano di Space Jam 2 Non è la prima volta, ovviamente, che un artista in generale O anche delle celebrità che, ripeto, non hanno mai fatto teatro Magari non hanno mai fatto un doppiaggio in generale Non hanno alcuna esperienza Vanno a doppiare personaggi di film così tanto importanti Che verranno visti da milioni e milioni di persone Ovviamente non al mondo Si parla ovviamente dell'Italia Perché ogni nazione ha ovviamente il proprio doppiaggio Ma perché proprio al nostro dovete fare robe del genere? Io, adesso che sto registrando questo video Non so di preciso a che personaggio andrà a doppiare Però Attraverso dei leak Mi è venuta anche qualche idea Su chi doppierà Adesso vi faccio vedere il piccolo leak Io dico leak per noi italiani Dato che in America è già uscito E che Non è piaciuto a tutti Lo devo ammettere Sono andato un attimo a vedere I trailer di Space Jam Se per caso sono stati doppiati E no, sono disponibili soltanto in inglese Sicuramente li rilasceranno in italiano Quando il doppiaggio di Fedez sarà completamente finito Avrà doppiato il suo personaggio E poi andranno a fare tutto quanto il trailer finale Perché sì, c'è stato il primo trailer Ma secondo me non mostrava così tanto Da essere definito addirittura trailer ufficiale del film O anche trailer di lancio in generale Adesso ragazzi, sto andando su YouTube A scrivere Space Jam 2 Il primo consigliato è Space Jam 2 Porky Pig Rap Song Già il fatto che Porky Pig Rappi è Fedez Sì, possiamo definirlo rapper Potrebbe doppiare questo personaggio Io ragazzi, spero non sia così Ok, già il fatto che lui abbia detto Notorious P.I.G Però dai, ci sta Perché effettivamente anche nel trailer Faceva vedere tutto questo citazionismo Però ammetto che È molto meglio di quanto pensassi E già in inglese spacca Speriamo che non doppi lui in italiano Però ci potrebbe anche stare Perché comunque l'attitudine da rapper In teoria Ok Ripeto, potrebbero esserci Le effettive possibilità Che potrebbe doppiare lui Però chi lo sa Ma scusate, se io scrivo Space Jam 2 Fedez C'è tipo qualche informazione Ah, ci sono già le informazioni Perfetto Ah, ci sono già le foto Il retroscena del doppiaggio Però io voglio di più Voglio di più Ok, che effettivamente Già all'inizio del video Io ho fortemente critica Ci sono già le foto Che cazzo significa questa foto? Perché c'è Un Lebron James Al centro E Fedez di fianco È un modo di dire al pubblico Che Fedez nel film italiano Doppierà Lebron James Mi state dicendo questo? No Raga, scherzate Credo sia un caso Che abbiano messo Lebron James Vicino a Fedez Nel mentre che sta doppiando Lo spero vivamente Altrimenti vengo In sala di doppiaggio E vi spacco il culo Oddio Fedez presterà la voce A Wetfire Membro del De Lagoon Squad Quindi Fedez Sarà uno dei cattivi Ok, adesso abbiamo scoperto Effettivamente Che personaggio Piara Fedez Ma non ha comunque nessuna scusa Perché è pur sempre parte dei cattivi Lui dovrà fare il cattivo Non penso che lui abbia l'attitudine O anche una voce da cattivo Fedez Poi magari lui la integra benissimo All'interno delle sessioni di doppiaggio Ma a parte il lato vocale Tu per doppiare devi sentirti il personaggio Perché per doppiare Non basta semplicemente avere la bella voce O delle belle note vocali Perché secondo me Quello là non fa assolutamente niente Per doppiare Bisogna saper recitare Bisogna studiare la recitazione Cosa che Fedez Non ha mai fatto E ancora io mi chiedo Il perché Ancora nel 2021 Fanno questi gravi errori Nei sai di doppiaggio Scegliere persone O anche personaggi Che non hanno Ben che minima esperienza Nel doppiare E sarà anche un colpo basso per me Quando io lo andrò a vedere Perché sarò talmente Disturbato Mentalmente Su come potrebbe Doppiare Fedez Quel personaggio Che non darò neanche attenzione Alla trama Cioè io mi perderò Praticamente qualsiasi cosa Pur di pensare Come lo potrebbe doppiare A me andrebbe bene A sapete che Chi mi andrebbe bene Di rapper A doppiare effettivamente Anche se è un cattivo E la sua voce È molto più acuta Per doppiare un cattivo Però A me piacerebbe Leon Faun Che lui ha studiato recitazione Sì da quando lui Era un ragazzino E per doppiare Serve appunto Una grandissima dote recitativa Potevano scegliere lui Scusate con questo video Magari più incazzato Rispetto a quello che Magari voi siete abituati A vedere su questo canale Però veramente Quando succedono queste cose Io mi incazzo come una iena Sto qui a fare il personaggio Sono veramente Miei pensieri Spero che Andando avanti Le cose potrebbero migliorare Spero magari Attraverso leak O magari video Dietro le quinte Dove vedranno Magari Fedez Doppiare alcune parti Del film Molti miglioramenti Per quanto riguarda Il lato vocale Perché ok Che Fedez Sia nel cantare E nel rappare Ha un buon timbro Però per un cattivo Non proprio eh Grazie tantissimo Di aver seguito questo video Fino alla fine Se vi è piaciuto Lasciate like Commentate Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Noi ci vediamo In un prossimo video Ma stavolta Sarà un video serio Come tutti gli altri Non farò l'incazzato Ma stavolta ragazzi Ero incazzato davvero E quando sono incazzato davvero Quando provo Emozioni vere Io ragazzi Mi devo per forza sfogare Mi dispiace Sono fatto così Tanto io ve l'ho già detto Su Instagram Nel prossimo video Quale sarà E sarà il video Dove io parlo Della trilogia Di Keta Music Di Amy Schilla Ovviamente per celebrare Questa nuova uscita Ovvero Keta Music Volume 3 Qui da World of Music È tutto E ci vediamo alla prossima Ciao Bye bye